Voleva che facessimo un governo con il Partito Democratico, il Partito Democratico è il Partito Democratico dei Buzzi, dei Carminati, dei Lupi, degli Incalzi, degli Alfano. È la sua opinione legittima, per noi questo sistema si cambia con l'intransigenza, l'onestà, tagliandosi i soldi e risultati dai cittadini, non scendendo a compromessi con questi. Il Partito Democratico è quello di Bersani che prendeva soldi da Riva dell'Ilva, è quello delle cooperative rosse, è quello di Penati, è quello che ha avallato tutte le porcate berlusconiane, ancora che credita la storia del Partito Democratico è differente di Forza Italia. È peggio, è peggio, il Partito Democratico è peggio, questi della sinistra hanno rubato più della destra e ci hanno fatto credere che loro sono i Santi e le Verginelle.